indice è un qualcosa che proprio generalmente si utilizza per misurare il valore di un qualcosa ecco gli indici azionari sono semplicemente ciò che rappresenta il valore di un insieme di titoli quindi di un paniere di titoli quindi potremmo dire quasi di un portafoglio di titoli e a cose relativo questo portafoglio questo portafoglio ovviamente sarà relativo per esempio un settore o una zona geografica oppure un mercato proprio nel suo insieme quindi di cosa possiamo parlare possiamo parlare per quanto riguarda una zona geografica possiamo parlare di titoli degli indici scusatemi italiani per esempio quindi un indice che misura l'insieme del valore di aziende italiane oppure possiamo parlare di indici tedeschi quindi per la germania indici americani indici inglesi per ogni nazione può esserci uno possono esserci uno o più indici proprio ok quindi capito questo capito quindi che cosa può essere un indice a cosa può essere relativo per quanto riguarda il settore può essere valido l'esempio del nasdaq il settore tecnologico ecco capito tutto questo possiamo specificare esattamente il fatto che ogni singolo titolo dovrà avere un certo peso all'interno dell'indice stesso e come facciamo a capire che peso ha un singolo titolo all'interno di un indice allora ci sono più metodi il primo metodo può essere quello di considerare ogni titolo identico all'altro quindi non guardare la capitalizzazione ma guardare semplicemente ci sono dieci titoli ok quei dieci titoli all'interno di quell'indice valgono tutti la stessa cifra quindi cosa vuol dire vuol dire che se varia il primo o se varia il decimo è indifferente nel senso che il valore totale dell'indice varierà a prescindere da quale titolo varia ok invece per quanto riguarda il metodo del prezzo ponderato qua già la faccenda cambia perché perché si guarda o meglio si pesano i vari titoli in relazione a che cosa in relazione al prezzo nel senso che una società all'interno dell'indice ok una società quindi quotata in quell'indice o meglio misurata in quell'indice avrà praticamente un certo prezzo in relazione ai propri titoli ecco quindi una società con un prezzo più alto avrà più peso di una società con un prezzo più basso e questo può non essere il metodo ottimale perché può creare in un certo senso una misurazione non troppo equa invece il metodo migliore che infatti anche il più utilizzato qual è è il metodo del valore ponderato cosa vuol dire vuol dire che ogni titolo all'interno dell'indice pesa in relazione al proprio valore di capitalizzazione e è il caso appunto del dax quindi il titolo o meglio l'indice tedesco è il caso dell'indice italiano è il caso dell'sp 500 è il caso del nasdaq è il caso dell'indice inglese insomma è il caso praticamente di quasi tutti in realtà l'indice al metodo più utilizzato appunto perché non crea problemi di equità nel senso calcola bene senza creare discrepanze che potrebbero poi falsare la percezione del valore di un certo indice e quindi l'andamento di un certo mercato l'andamento di un certo settore quindi ora per terminare vorrei un pochettino ripercorrere quelli che sono gli indici che noi consideriamo maggiormente che studiamo analizziamo e talvolta tradiamo anche all'interno della scuola platinum che sono per esempio l'sp 500 che è che cos'è l'sp 500 è il principale indice americano e rappresenta col metodo della capitalizzazione quindi col metodo del valore ponderato le principali 500 aziende americane appunto per capitalizzazione poi c'è il dax tedesco che è la stessa cosa in certo senso nel senso che usa il metodo del valore ponderato ed è relativo le 30 principali aziende tedesche poi un altro indice che teniamo abbastanza sotto osservazione è per esempio il nasdaq che considera le prime 100 aziende per capitalizzazione americane all'interno del settore tecnologico quindi con questo è tutto noi utilizzando la price action ci concentriamo prevalentemente su che cosa prevalentemente ovviamente sul mercato delle valute ma per quanto riguarda gli indici noi osserviamo anche quegli indici che sono più liquidi quindi quali appunto come ho detto prima l'sp 500 il dax il nasdaq sono indici comunque molto liquidi le cui società comunque hanno una grande capitalizzazione e quindi sono ben diciamo predisposti per il nostro metodo nel senso che la price action si applica molto bene appunto ai titoli o meglio in questo caso all'indici che sono molto molto liquidi ok con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto spero che possa essere interessante che possa esservi in qualche modo utile io in ogni caso se il video vi è piaciuto vi chiederei di mettere un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto io in ogni caso vi ringrazio vi auguro un buon proseguimento ciao a tutti